Bene direi quindi che possiamo iniziare. Buongiorno a tutti e benvenuti al webinar di oggi in collaborazione con Trader TV Show. Mi chiamo Roberto Fuccaro e mi occupo di Educational Trading e Investing in Fineco. Oggi insieme a Brendan, Sean e Neil, trader di professione per Trader TV, vedremo una sessione di trading interattiva dove potremo imparare ad analizzare l'andamento dei mercati e come scegliere i titoli sui quali fare delle operazioni di trading. I trader utilizzeranno la nuova piattaforma Fineco X e ci mostreranno come utilizzarla al meglio. Prima di passare a loro la palla vi ricordo che il webinar è registrato e lo potrete rivedere nella sezione webinar on demand dell'area formazione di Fineco e inoltre avete una chat a disposizione dove potete inviare le domande da fare direttamente ai trader. Dedicheremo poi gli ultimi dieci minuti a rispondere ai vostri dubbi. Un ringraziamento particolare va a Soraya Sultan e Cristina Massa, le nostre traduttrici simultane. Direi quindi di passare subito la parola a loro e buona visione. So, good morning guys, I'm happy to see you again. We're looking forward to see your show and how you use Fineco X. Enjoy! Grazie, grazie Roberto e benvenuti a tutti e ben ritrovati se questa è la seconda volta e soprattutto se siete collegati per la prima volta. Oggi vedremo insieme una giornata molto molto interessante non solo per i mercati europei ma anche nord americani. Un bel setup proprio per quello che succederà poco dopo con Powell il presidente della Fed che nel corso della giornata appunto parlerà durante la sessione nord americana a Washington oggi. Quindi i mercati oggi sono positivi in tutto lo spettro dello scenario europeo ma ma un pochino diciamo sommessi. In vista di questi commenti chiaramente il focus va sull'inflazione sulle banche centrali quello che hanno cercato di fare per contrastarla ma ci sono un sacco di opportunità da non farsi perdere in questi mercati ogni giorno proprio per per la volatilità in questo momento. Ora qualche commento prima di partire allora sottolineeremo una cosa è il nuovissimo come diceva Roberto appunto la nuova piattaforma di Fineco si chiama Fineco X è nuovissimo veramente un piacere fantastico usarla veramente Fineco X ci sono tantissime funzionalità che vi offre con Fineco X parleremo di quello che può fare come poter inserire ordini titoli eccetera e come trovare benvenuti di nuovo a tutti e qualche volta magari mi inserisco con delle notizie partiamo con i titoli bene benvenuti a tutti e sono molto contento di utilizzare Fineco X e ci vedrete quindi che ci occupiamo del trading ma anche vi faremo vedere come si può utilizzare questa piattaforma a vostro vantaggio allora so che prendono già l'ha detto ma comunque i mercati sono in ascesa diamo un'occhiata velocemente ai nostri grafici come vedete stiamo tradando eh a valori alti però c'è anche eh una situazione legata all'attesa dei risultati dei mercati americani quindi se vogliamo vedere eh che cosa sta accadendo eh beh guardiamo HelloFresh per esempio che ha riportato utili eh la guida non era al massimo diciamo perché eravamo nella parte bassa del range un po' deludente e come potete vedere eh abbiamo questo ventitré veramente si tradava ventuno e poi c'è stata questa rottura di ventuno e cinquanta eh circa mezz'ora fa eh e poi un'altra rottura a questo livello di console del lamento quindi le notizie negative le rotture eh stiamo cercando di eh arrivare a questa posizione eh ventiuno quindici di HelloFresh e potete vedere che qui a venti e sessanta avevamo un bel target ecco sto cercando di farvi vedere il schermo intero così mi potete seguire un pochettino meglio ecco qua che a ventuno poi qui abbiamo venti e settantacinque quindi una posizione short ventuno e eh quindici proprio qui in questa fase di piccola consolidazione della rottura eh beh sì eh la guida era scarsa per quanto riguarda gli utili quindi c'è stata una negoziazione a ribasso ben fatto grazie per aver analizzato questo ma nel day trading il punto è che ci sono un sacco di opportunità esatto ci sono un sacco di titoli stock mercati dove possiamo operare nelle io abbiamo scelto appunto eh di fare trading con il CFD per gli zero fee eh andando avanti indietro poi alla fine puoi eseguire dei day trade giornaliere e vuoi controllarle le tue P no perché magari fai soltanto non so eh un pochino per il trade quindi devi pagare magari un fee di esecuzione eh al vostro eh broker questo può corrodere eh i tuoi profitti però Fineco eh X veramente è viva una nuovissima piattaforma che vi porta a Fineco allora vediamola un attima non l'ho ancora preparata ma vedete qui che guardiamo i futures per esempio è soltanto facendo rolling possiamo zoomare dentro e fuori con il mouse è fantastico una tecnologia lineare potete passare da eh non so grafici a minuto eh uno cinque dieci minuti giornalieri eh annuale tutto è qui eh preferisco quella di eh un giorno e poi un grafico a un minuto quindi posso vedere l'azione che è in atto sui mercati questo è qualche cosa che è molto importante per me e qui invece guardate ho già elencato diversi tabs qui in alto che sono fantastici quindi so che per esempio guardo i CFD ho un tab aperto qui sui CFD semplicemente mi rappresenta tutti i CFD che sono disponibili da Fineco e posso verificare e guardare il mercato italiano o magari ricontrollare tutto qui e adesso magari la cosa più eh famosa è quella appunto dei CFD britannici oggi sto guardando Glencore cosa ho fatto? Eh trovate Glencore qui in basso e quello lì guardalo un po' eh in ordine alfabetico e poi ci sono altre call so che è un po' difficile da vedere veramente grazie per avermelo ingrandito lo vedete qui in basso eh giù eh uno virgola ventinove per cento lo potete vedere qui eh il massimo il minimo eh giornaliero il simbolo il ticker ho aperto il grafico su un altro tab e guarda come si apre poi zoomare e guardare il momentum di Glencore cioè eh in ribasso eh quindi quello che ho fatto adesso è questo lo vedete qua appunto con il mio monitor di portafoglio attualmente sono eh short su eh Glencore a questo prezzo eh 4,96 e cerco appunto magari un movimento verso il basso questo future se comincia a muoversi verso il basso lo vedete qui allora io sono short qui su Glencore vado corto ne abbiamo un po' e cerchiamo di vedere se possiamo rompere questo minimo di 4 eh 95 e eccetera eh guardando l'elenco dei CFD cerchiamo di trovare dei nomi dei nomi che abbiano buoni movimenti da scegliere cliccando solo qui guardate qui e potete vedere quali appunto per esempio c'è Carnival che si sta muovendo in questo momento eh di parlava di eh eh Fresh Glencore qui eh questo è incredibile eh veramente spero che si possa tradurre un modo fantastico per riuscire a trovare l'elenco delle opportunità la rosa guardando appunto i punti di forza e di debolezza sul mercato Fineco X fino adesso fantastica piattaforma. Verissimo e che facilità poi eh quando la utilizziamo si salta da un simbolo all'altro eh io però voglio tenere d'occhio eh alcune società eh quindi cosa faccio salto da una pagina all'altra qui abbiamo a Ston Martin per esempio Gran Bretagna ehm ci sono dei grandi nomi interessanti però andiamo a cercare per esempio una cosa che vi possa interessare per capire come posso andare avanti e indietro in continuazione vedere tutti i grafici che voglio in tempo reale e in poche parole questa piattaforma vi consente di gestire posizioni multiple questa è la parola chiave simboli multiple contemporaneamente quindi torniamo da quella lista su quella lista britannica Aston Martin abbiamo un più sette per cento ora come ora ehm all'interno di un piccolo ritracciamento ma sta eh tradando eh all'interno di un range decisamente interessante due nove tre due nove quattro eh tre centocinque qui possiamo posizionare la resistenza e poi abbiamo il supporto a duecentonovantatré a duecentonovantaquattro quindi la parte bassa di questo range è il nostro supporto eh la parte alta questa è la resistenza una cosa di cui sempre parliamo è la seguente eh andiamo a vedere ora come ora nel breve termine che cosa è accaduto lo potete fare in qualunque momento vedete qui potete scegliere l'anno prendiamo l'anno scorso per esempio lo definiamo all'interno del calendario eh oppure possiamo vedere il grafico giornaliero per capire come stanno andando le cose quindi ecco che in questo lasso di tempo Aston Martin è letteralmente esplosa recentemente lo zoom così lo vedete ancora meglio vedete questa è stata una tendenza verso l'alto che è partita da quando è stata rotta questa resistenza e la prossima appunto a trecento e potremo avere quindi delle giornate di grande successo quindi siamo in una situazione di tendenza chiara a questo punto posso tornare indietro vedermi il grafico dei cinque giorni o quello dei cinque minuti dei quindici minuti quello che preferite e a questo punto potete vedere questo piccolo range di consolidamento qui in alto mi piace proprio questa idea di tenuta tenuta 93 94 la ricerca di posizioni long e lo potete fare tra l'altro con varie modalità la facilità di esecuzione facilissima cliccate qui sul bottone trade eh oppure possiamo anche tornare indietro chiudere la schermata intera e se avete aperto Aston Martin potete cliccare qui e basta abituarsi e in un attimo si possono vedere eh si può fare il booking direttamente ecco il book il bid l'ask eh potete vedere il bid attuale l'ask attuale qui potete mettere le vostre quantità ehm io preferisco eh tenere presente tutti i miei book qui ho la possibilità di fare un eh una verifica su HelloFresh metto la mia bid a 94 fate la parola bellissimo un movimento per partire per Aston Martin un'altra giornata verso l'alto verso il rialzo Lauren Stroh eh appunto il team di Formula 1 eh per l'Aston Martin congratulazione e sul weekend l'altra parte eh voglio parlare di Ferrari signori perché qui siamo arrivati a un livello molto significativo di trading a Milano oggi per la Ferrari cercando appunto di salire un po' di più sulla giornata vediamo qualche caratteristiche allora qui stiamo parlando di catalizzatore eh questa parola la sentirete ogni tanto e vogliamo appunto come trader di breve termine cercare qualche cosa che si muove che fa qualcosa su una base intraday uno dei modi per poterlo fare è sempre essere associati a quello che è il nostro interesse il focus sulla base intraday con una azienda con un nome che ha un catalizzatore che sia eh utili per esempio eh che siano altre fonti eh di catalizzatori diciamo basati sulle news questa è la chiave di volta con la piattaforma Finecoist quindi cosa possiamo fare? Possiamo fare una cosa molto facilmente e chiaramente mettere in atto alcune delle caratteristiche sulla piattaforma passiamo subito sul eh lo schermo qui vedete questa è la a window la finestra news qui in basso più o meno è stata ingrandita eh allora vedete che qui ci sono tre puntini eh sul lato praticamente del tab delle news apriamole eh selezioniamo il canale selezioniamo il canale ti da tutta una serie diciamo di colori cromatici associati con eh la window ho scelto red rosso e arrivo sulla watchlist e faccio la stessa cosa quindi per esempio sul Fuzzy 100 l'ho già fatto quindi potete vedere che è già stato selezionato col colore rosso assegnato adesso ogni volta che io clicco su eh un nome nella lista eh vedo delle eh news delle notizie che sono correlate appunto con quel titolo che appaiono subito quindi è super facile uno non è che deve eh magari inserire il simbolo eccetera basta cliccare appunto sul simbolo in quanto tale e improvvisamente escono tutte le news appunto sulla news window una funzionalità fantastica grazie alla piattaforma Fineco X eh vogliamo focalizzarci solo sui titoli che fanno qualcosa e si muovono grazie fantastico eh certo questo è l'obiettivo della nuova piattaforma riuscire ad identificare nuove caratteristiche aggiungerle e credo che Fineco abbia fatto un veramente un lavoro fantastico perché ha preso anche tutti i consigli e le raccomandazioni dei trader e dei clienti per riuscire a capire di che cosa veramente noi tutti abbiamo bisogno e io adoro questa piattaforma bellissima mi piace moltissimo bene comunque ora come ora ehm che cosa voglio fare voglio posizioni short e per esempio Fetcher Powell ehm probabilmente davanti al Senato farà veramente il falco e soprattutto anche domani davanti al congresso oggi davanti al Senato e credo che il Nasdaq quindi sia sia in ascesa in questo momento però considerando la chiusura di ieri sui mercati americani ho la sensazione che ci sarà un rintracciamento e quindi dobbiamo stare a vedere che cosa accadrà qui sulla piattaforma Fineco possiamo anche vedere dove abbiamo eseguito i nostri trade qui per esempio li segno con una E quando abbiamo il downside e come vediamo la posizione short per Merck e quindi richiamo il grafico di Merck più 1,15 per cento ma che cosa sta accadendo qui sul mercato tedesco questo è l'indice tedesco e ehm come vi dicevo io credo che il mercato stia ritracciando un pochettino questo è il chart a un minuto quindi abbiamo visto la Merck qui a 1,80 e 50 e 15 eh cento quindi cento ottanta quindici prezzo attuale zero 5,50 e praticamente eh qui c'è stato il book feed ed eccolo qua ordine al limite ordine a prezzo di mercato a chiusura potete cambiare ehm la durata un giorno più giorni domani eh ordini intraday percentuali di margine tutto possiamo utilizzare il CFD e quindi tutto a posto con i margini e il trading ma ecco la Merck come si muove l'idea è quella di rimanere short dato che il mercato sta ritornando sui suoi passi e Merck andiamo a vedere qui un giorno un minuto ecco il grafico di un minuto ecco vedete qui perché abbiamo fatto l'esecuzione quindi stiamo rompendo il supporto quindi siamo arrivati al supporto qui c'è un supporto a cento settantanove cinquanta e uno ottanta e se andiamo al di sotto di questo livello di centottanta che stiamo testando perché la Merck sta testando proprio adesso lo vedete centottanta eh centottanta punto quindici ecco se andiamo al di sotto di questo supporto io credo che il mercato scenderà a cento settantanove virgola ottanta quindi qui mettiamo un ordine di acquistico di acquisto metto l'ordine per fare un acquisto qui a questo livello a cento settantanove virgola ottanta semplicissimo quindi basta passare a uno mettere limite e scrivere cento settantanove virgola ottanta schiacciate sul pulsante buy compra poi compare la videata di conferma per sicurezza confermo ed ecco che ho posizionato il mio ordine è qui a cento settantanove virgola ottanta quindi adesso devo aspettare e vedere se riesco ad eseguire quest'ordine per Merck mi piace tantissimo questa conferma perché è un modo per poterlo impostare per cliccare soltanto una volta nel trade ma comunque una vuole comunque sempre avere la conferma di quel trade di quell'operazione vado su questo nome perché sì signore sono su health fresh eh abbiamo parlato di Austin Martin però eh eh per esempio eh Ferrari ecco anche lì livello chiave eh si intende questo cioè abbiamo visto dei nomi così come questo negli Stati Uniti dove facciamo del trading che sono andati in resistenza e poi hanno fatto una specie di canale dopo un forte movimento vedete quello che succede qui quando si arriva a 2.57 e si passa a 2.5750 se si ritorna come la sessione di ieri ma questo è un livello di resistenza un titolo di questo tipo mi dà un buon rapporto rischio rendimento eh non è stato capace di rompere però fino adesso possiamo entrare 50 punti di rischio a 2.57 eh quindi 2.5750 e cerco un pullback cioè un ritracciamento sul mercato a 2.56 eh velocemente ancora una nota a volte si parla di breakout di rottura bene eh se un ordine rompe a 2.5750 improvvisamente magari rompe e va in nuovo territorio quindi cosa si può fare beh quello che si può fare è mettere un ordine condizionato per esempio quindi clicco velocemente qui posso andare alle condizioni non voglio un trade di breakout ma supponiamo che per esempio non so l'ask è eh superiore io posso mettere 2.5750 60 e eseguire un ordine di acquisto se voglio un trade di tipo breakout in questo caso particolare cerco appunto la posizione short eh ma eh voglio una short come posizione o man mano che sale a questo livello di 2.5750 qui un po' più vicino a questo massimo oppure eh rompiamo questo canale verso il basso a 2.5670 allora per adesso è una di quelle situazioni in cui voglio essere paziente aspettare cerco un attimino eh che testi un attimino verso l'alto eh non fino a arrivare 257 50 e poi entro in quella posizione con questa posizione short ordine condizionato la gente dice eh ma io voglio un ordine stop uno stop order per proteggermi dalle perdite se qualcuno eh qualcosa succede contro di me altro modo invece è entrare nella posizione eh voglio che la Ferrari rompa 2.5750 a questo livello dalle massime di ieri io penso che possa essere una buona cosa ma non è ancora successo quindi si mette un ordine condizionato per questo motivo per riuscire a proteggersi eh dai trade eh molto semplice ritorno qui hello fresh ho messo eh dei bill ho fatto delle offerte qui come vedete è incredibile perché se vuoi eh visualizzare delle posizioni velocemente qui eh metti short fammi dare gli ordini e uno chiaramente eh verifica l'esecuzione di hello fresh eh a questo livello di 21 posso mettere un ordine condizionato per proteggermi però posso manualmente controllarlo quindi eh quattro cinque posizioni uso sempre l'ordine condizionato su hello fresh per essere sicuro che non superi il livello di due cinquanta bene io allora ho due posizioni le abbiamo messe nel eh grafico Glen short short e Merck short quindi cosa ho fatto sono tornato alla mia watch list e dato che i future stanno ancora rimbalzando siamo ancora positivi quindici virgola per cento sullo setra ma eh vediamo che sono rimbalzati da un livello che era supportato qui a quindici e seicento settanta quindi adesso voglio trovare un'azione che è già rossa ecco hello fresh di nuovo ancora una volta la possiamo selezionare e lo potete fare anche per percentuale quindi ecco qui trovo BMW ehm conosco molto bene la Tesla che si è spostata in alto e in basso recentemente andiamo a controllare la BMW ecco ancora una volta la il grafico annuale e giornaliero oh cosa è successo chiudiamo e torniamo qui ecco fatto allora ritorniamo qui selezioniamo BMW credo di aver selezionato la cosa sbagliata scusatemi ed chart ed ecco che si apre il grafico quindi BMW oggi come oggi eh siamo già andato andati oltre il limite di centrodollari dal punto di vista psicologico questa è una soglia molto importante per qualsiasi azione quindi siamo oltre cento abbiamo avuto un paio di giorni su cento uno cento due cento due è il massimo raggiunto allora io che cosa voglio fare voglio tornare sul mio grafico di una giornata eh vediamo cosa è successo negli ultimi cinque minuti non è successo molto non stanno non ci sono grandi movimenti per la BMW però qui vedo solo due possibilità di eh tradare o si ritorna a questo livello di cento due e quindi andiamo su eh consideriamo short oppure come diceva Neil con gli ordini condizionali potremmo tradare al ribasso se si rompe questo supporto quindi i future e e la borsa non stanno facendo molto ora come ora ma se andiamo a dirompere oltre quest'area credo che si potrebbe arrivare a cento uno forse addirittura cento due oppure se scende allora io spingerei il supporto più in basso quindi questo novantanove fino a cento due e poi io preferisco short qui oppure un short qui se andiamo al di sotto di cento e uno ma Brandon la cosa fondamentale è evitare di tradare un'azione se non vediamo nessun movimento e se non c'è un catalizzatore quindi Brenti ridò la parola ci sono delle novità su quest'azione bene bene parliamo adesso del settore auto in generale infatti uno dei concetti che possiamo guardare tutti i giorni è questa idea semplice di eh forza relativa rispetto al mercato e punti di debolezza relative rispetto sempre al mercato avete sentito che i nostri signori hanno parlato appunto del mercato dei futures per eh l'indice andando verso il ribasso eh oggi e quindi a questo punto è molto facile trovare individuare un titolo che magari può salire uno due tre per cento eh in giornata è un titolo invece che va giù eh di uno due tre stessa cosa diciamo per cento in giornata eh lo facciamo perché eh se se notate che dico se eh cioè se il mercato per esempio eh non è che lo facciamo per fare soltanto per amore del trading ma se il mercato dovesse fare un movimento muoversi almeno abbiamo un'idea di quello che è forte rispetto a quello che non lo è allora un altro nome vi propongo nel settore eh auto questa è la Rolls Royce signore come abbiamo visto appunto oggi eccoci qua allora come abbiamo visto anche oggi il mercato sostanzialmente è piatto e stiamo scambiando diciamo di più eh per il mercato durante la giornata ecco Rolls Royce un dell'un per cento è rialzo oggi è un grafico a cinque minuti molto forte ieri molto molto forte ancora oggi siamo ritornati esattamente a questo massimo livello da ieri come livello della Rolls Royce eh poi scendiamo qua dove ci sono le news e le notizie eh vedete abbiamo sottolineato il modo in cui uno si può collegare eh può collegare tutte le finestre in piattaforma vedete il tab qui in rosso per la watchlist qui in rosso l'ho scollegato perché volevo cercare manualmente altra funzione questa tra l'altro si può cliccare effettivamente per esempio su questa letta di ingrandimento e inserire manualmente il nome della Z non ha neanche bisogno praticamente del simbolo del ticker può inserire manualmente il nome dell'azienda e ti dà tutte le news che riguardano quella società ecco qui un upgrade di oggi signore della Barclays anzi no scusate è un downgrade mi scuso eh dice Brandon eh sulla Rolls Royce ve lo faccio vedere perché il titolo eh sta ancora performando relativamente bene solido rispetto al resto del mercato anche se c'è un catalizzatore negativo per Rolls Royce grazie sì è una delle cose che si possono fare sulla piattaforma ehm molto rapidamente perché mi è venuto in mente adesso allora andiamo su Rolls Royce e andiamo a vedere il simbolo rapidamente altrimenti posso anche eh cliccare qui andare nel mio grafico aperto l'open chart e aggiungere Rolls Royce e a questo punto possiamo vedere il trading eh di CFD perché eh secondo noi è una cosa preferibile dato che eh è gratis e quindi come trader attivo è la mia preferita e tutto è personalizzabile individualizzabile e vedete qui trovate tutto il documento quindi insieme a Sean eh ormai noi facciamo trading da una ventina di anni e la nuova grande piattaforma Finecoex è fantastica perché vi consente di fare di tutto leggetevi passo per passo tutto quello che potete fare ehm spesso non abbiamo voglia di leggere il manuale di istruzioni le linee guida ehm talvolta bisogna andare su Wikipedia per trovare tutto questo e e le cose possono essere complicate ma guardate questo è veramente facile e immediato ieri sono andato a vedere per esempio il conditional order l'ordine condizionale e l'ho trovato in un attimo quindi le spiegazioni sono estremamente chiare e facili da utilizzare quindi ehm è uno strumento veramente fantastico potete aggiungere tutti i grafici che volete io ne ho aggiunti tantissimi eh ho pensato andrà a finire che rompo tutto perché continuo ad aggiungere grafici ma invece no le cose funzionano benissimo quindi poi avete tutti questi massimi da qui potete andare a vedere eh cosa volete fare due cinquantasette due cinquanta se penso che eh questa è eh la posizione io ho due cinquantasette trenta adesso sono short eccolo qui mettiamo execution e se invece va oltre il livello di un paio di punti due cinquantasette cinquanta ecco questo non è il massimo di due giorni questo è il massimo della chiusura di ieri e se andiamo oltre questa soglia eh vabbè eh pazienza però io tengo il rischio sotto controllo in questo modo se poi in realtà rompe questo piccolo canale di sicuro saremo short più in basso oppure posso decidere di ricollegarmi ancora una volta a questo due cinquantasette virgola cinque a questo livello quindi eh sto cercando delle posizioni long e se forse torniamo con su Hell Fresh ma anche altri nomi che stiamo cercando per posizioni long un nome potrebbe essere Aston Martin per esempio ma c'è anche un'altra cosa che volevo farvi vedere ecco qua Aston Martin drag and drop facilissimo è facilissimo allora drag and drop ed ecco che abbiamo quello che stiamo cercando Allora qui abbiamo avuto un rimbalzo da quel due novantatré e novantaquattro quindi possiamo mettere il nostro ordine e eh in questo range due novantaquattro abbiamo visto che la posizione è long ma è un po' rimbalzata e quindi sta continuando a procedere. Ok tra l'altro questo drag and drop, questo trascinare mi piace tantissimo come funziona l'età facile veramente eh più è facile la piattaforma per tradere più possiamo soltanto pensare al trading no? Eh soprattutto a usare gli strumenti giusti per poter fare eh un'esecuzione nella posizione più favorevole eh Neil ed io tra l'altro sono ventidue anni che facciamo trading eh poco più o poco meno eh dovete sentervi tranquilli con quello che fate beh se comunque non vi sentite tranquilli fate come noi abbiamo una bella tazza di caffè abbiamo eh questo blocchetto sul quale eh noi scriviamo con una calcolatrice cose di questo tipo ci abbiamo tutto poi abbiamo anche eh un toro fortunato qui come vedete diversi grafici diversi setup tutto disponibile per noi modo per sentirsi tranquilli e rilassati e comprendere e capire quello che state facendo anche adesso con questa piattaforma per esempio se arriva sul mio schermo eh beh sono corto di eh Merck siamo andati corti su Merck vedete cliccando questo ti spiega come vedete qui quello che abbiamo fatto appunto eh con i CFD abbiamo messo il nostro ordine qui a 1,80 però se vado sul monitor che ho qui a destra eh quello che posso fare è cliccare su Merck come vedete qui e vedete eh questo è il mio eh eh bed a 1,79 e 80 se volessi posso eh inserirsi qua diciamo nel cestino eliminare quest'ordine per esempio diciamo che magari io penso che sta scendendo ancora di più oppure posso aspettare il file l'esecuzione dell'ordine quindi è molto facile visualizzare tutto potete rizzoomare ridimensionare dimensionare evidenziare tutte le funzionalità e eh comunque Merck è sceso a 1,79 e 85 praticamente adesso sta cominciando a ribalzare verso eh l'alto nonostante i futures che lo stanno facendo molto in questo momento quindi quasi forse eh siamo arrivati a trenta centesimi in ribasso allora aspettiamo di vedere se eh eh qual è il nostro portafoglio che possiamo visualizzare appunto short di Merck a 1,80 e 15 quindi praticamente abbiamo quasi guadagnato 40 centesimi ottimo trade e poi Glencore short corti di 4 eh eh 9,57 vado qui trovo Glencore e vado in events show orders fammi vedere l'ordine ne vediamo due di posizione short e poi rientriamo e siamo usciti ancora eh più in basso forse magari avrebbero dovuto a 4,95 mettere un ordine vediamo se Glencore vuole rientrare ma come Brandon ha detto appunto si è parlato appunto del settore auto allora io eh chiamo la Volkswagen e vedo un trade su Volkswagen questo è un grafico giornaliero con minuti come denominazione allora se rompiamo sotto questo eh livello qui ritorniamo a 1,39 e 90 andiamo corti adesso su questa rottura oppure eh una rottura eh long più alta eh si rimbalza quindi tra 1,40 e eh 25 e 1,40 possiamo andare lunghi qui in basso eh uscire se rompe più in alto ma per me se questo floor rompe è possibile appunto puntare verso il basso quindi come si fa eh in modo di visualizzare l'ordine beh vediamo qui la volkswagen apro questa finestra ed aggiungo una condizione se il bid l'offerta è inferiore di per esempio 1,39 89 come vedete qui allora voglio andare corto su questa posizione non mi dispiace eh farlo come ordine mettiamo sell vendi per questo ordine e poi dobbiamo confermarlo ok conferma a questo punto abbiamo un ordine eh diciamo in sosteso eh short su polkswagen se dovesse rompere sotto questo livello di 1,39 90 abbiamo due posizioni soltanto ma stiamo aspettando appunto di averne di più di inserire di più corti su Glencore su Mark e stiamo aspettando quindi non devo essere lì eh aspetto che questo titolo appunto rompa al di sotto di 1,90 90 sì e come ci hai appena detto possiamo utilizzare questi ordini condizionati io li ho utilizzati per proteggermi per quanto riguarda la Ferrari ha eh rutto la resistenza in alto e allora eh ho pensato la questa la posizione Ferrari ehm qui vediamo il mio ordine a Stone Martin che l'ho messo e una delle cose di cui parliamo sempre nel trading è la pazienza bisogna essere pazienti in questo caso forse un po' troppo nel senso che io sono qui sto aspettando è chiaro che c'è già un canale eh che è stato imboccato dall'azione eh quindi se arrivassimo a 305 o magari anche un 303 short io preferisco la posizione lunga dopo questo supporto 294 che mi sembra piuttosto buono ora com'è ora ma ricordatevi che è tutto molto molto semplice quindi io preferisco francamente essere lungo anche se compro vicino ai massimi ma perché se considero l'intero eh grafico degli ultimi sei mesi ecco guardate eh cosa è successo nelle ultime sessioni l'Aston Martin eh ha rotto alla grande e quindi se dovesse scendere a 93 94 beh allora uno pensa sì l'avrei dovuto fare l'ho detto ma non l'ho fatto e questa è la situazione. Ok ancora più meravigliosa funzione della piattaforma Fineco X eh abbiamo parlato di come è possibile eh collegare alcune windows quella delle news delle notizie con il grafico con la watch list basta un click su un simbolo e pap cioè ti presenta tutto in un'unica finestra. Allora vediamo come si può fare a livello singolo e individuale quindi una diciamo delle cose fantastiche che fa la piattaforma eh allora se volete soltanto un chart un grafico una chart eh che ne so in più per esempio per un motivo X scendiamo qui in alto questi sono tutti gli indici che sono elencati qua vedete in alto clicco sul Fuzzi 100 eh che eh esce fuori vedete allora voglio tirar fuori un grafico senza magari disturbarne un altro che già è stato impostato nel tuo layout un modo fantastico per poterlo fare ancora una volta con una piccola lente di ingrandimento si clicca su eh cerca ricerca inseriamo il nome dell'azienda eh questa è una fantastica feature pensate appunto no eh con altre piattaforme devi capire non soltanto il tipo di di azienda che sta cercando ma anche qual è il simbolo TICOR che è associato con quel nome eh invece eh con questa piattaforma a fine non è così eh perché allora quello che faccio basta che inserisco semplicemente non so Sanofi Sanofi basta stop vedete appunto nel drop down ti da attendila tutte le opzioni che sono disponibili per poter eh visualizzarle su questa chart clicchiamo su che so un indice qualunque elencato clicco su equity azionario eh su eh i CFD per esempio come ho detto i colleghi e poi istantemente tac ecco il grafico intra debiamo questo è grafico giornaliero però eh l'orizzonte temporale può essere cambiato in alto il punto è questo non devi per forza stare su un unico format se vuoi magari rapidamente catturare una chart cercare un simbolo questa è una funzionalità fantastica per questa piattaforma sì effettivamente rende tutto molto molto più facile e una cosa che bisogna fare la voglio sottolineare perché quando hai fatto vedere la piattaforma ecco ritorno sul mio schermo eh Sean quando hai fatto vedere la lista di tutti i CFD ecco si può tradare assolutamente tutto si può seguire assolutamente tutto ma è un po' complessa la cosa noi come trader preferiamo avere la nostra watchlist e quindi abbiamo cercato di farvi una dimostrazione e posso comunque aggiungere tutto quello che voglio è semplicemente un esempio alcuni dei nomi di di cose da tenere sotto osservazione e quindi posso lavorare in modo più concentrato poi posso fare il drag and drop di qualsiasi nuovo nome nella mia posizione eh meglio non nella mia posizione ma nel mio grafico quindi eh cercate di semplificare il più possibile e eh poi monitorate la vostra posizione qui per esempio voglio monitorare health fresh in questo momento il mercato ha un movimento laterale eh se non rompe se non va al di fuori del range allora io qui posso andare ad aggiungere o meglio offrire più azioni a questo livello di ventuno venticinque eh volendo potrei anche scendere eh toglierla ventuno e andare a vedere delle offerte a valori più bassi quindi lentamente ma inesorabilmente sta un po' scendendo siamo in the money ehm non c'è nessun motivo in realtà per uscire però stiamo osservando la possibilità di avere altre opportunità per poter entrare in questo range. Rolls Royce vale la pena tenere la sotto osservazione sembra che questi nomi dell'automotive stiano facendo qualcosa si muovano un pochettino un per cento per esempio ehm se abbiamo parlato delle eh gare che non hanno portato fino al massimo che ci si poteva aspettare qui vediamo l'effetto delle gare per Ferrari vedete che l'abbiamo venduta duecento due cinquantasette e trenta e poi c'è stata un'inversione di tendenza una rottura posizione lunga due cinquantasette cinquanta quindi ecco che qui c'è già stata una rottura la Rolls Royce qui sta cercando di arrivare a questo massimo eh sarebbe bello poter eh avere quest'asso Martin Long e eh comunque qui vediamo che la Rolls Royce potrebbe anch'essa rompere questo questa resistenza. Ok perfetto quindi abbiamo fatto solo l'esecuzione in Volkswagen andiamo siamo andati corti e lo stop order è andato benissimo funzionato benissimo anzi uno trentanove e ottantotto sulla short come posizione ecco qui la rottura abbiamo rotto verso il basso il mercato sta cercando anche lui di rompere verso il basso eccolo qui eh esecuzione andiamo in evento mettiamo eh fai vedere gli ordini eccolo qui è stato appena eseguito short a uno e trentanove e ottantotto in questo momento short anche la Merck sta cominciando eccolo qui te Merck sta cominciando a eh così prendere un pochettino di di vita sta cercando appunto di rompere un attimino più verso il basso ops eh uno scusate sto spingendo il grafico qui scusatemi eccolo qua abbiamo appena toccato il livello di uno settantanove e ottanta cinque ricordate che noi anche qui siamo a uno settantanove e ottanta e stiamo cercando di tirar fuori un pezzetto da e mi piace è già saluto un decimo di percentuale eh zero zero uno sulla trade di Merck eh qui eccolo qui che arriva la Volkswagen il mercato sta tirando verso il basso quindi noi eh vogliamo essere certi che abbiamo appunto giusto il nostro ordine su Merck ce l'abbiamo qui aspetto per vedere se possiamo metterlo in esecuzione ecco eh Merck stiamo offrendo ottanta siamo short il portafoglio siamo short a eh quindici e ottanta trentacinque centesimi eh sul ribasso per Merck vediamo un attimino Volkswagen che cosa sta facendo ecco guardate questo wow si ottimo movimento verso il basso per Volkswagen ci siamo fermati a uno trentanove e sessanta sei allora inseriamo un bid un'offerta adesso cosa faccio chiamo questa cosa eh metto un limite sul eh trade e è sceso a uno trentanove e sessantacinque lo mettiamo proprio qua uno trentanove eh virgola sessantacinque cerchiamo di uscire eh da una posizione una azione clicco ok e adesso il nostro bid è nel sistema siamo corti a eh ottantotto cercando di catturare quei venticinque centesimi se potessimo uscire a sessanta sei eh ce li mettiamo in tasca e ricordate a questo questi sono CFD quelli che abbiamo eh scambiato quindi noi entriamo usciamo entriamo usciamo e continuiamo a a comunque mettere profitto nelle tasche non è male no? Se ti prendi cento eh titoli della eh Volkswagen e scende di trenta centesimi eh questi sono trenta euro che hai appena guadagnato non hai pagato nessuna commissione nessun fee e né un minuto ce l'hai fatta quindi questo è il tipo diciamo di cosa che ci interessa come trader giornalieri cioè velocità dentro e fuori nelle mosse e guardare comunque il mercato cosa fa se il Nasda o in questo caso appunto Xetra eh scende beh questa è la posizione short in cui siamo noi tutti questi stanno short short Glencore eh short Merck e short su Volkswagen eh sono entrato eh con una posizione short e eh Paolo credo che sarà abbastanza negativo sul mercato oggi quindi noi ci mettiamo tutti sulle posizioni short cercando di catturare queste esecuzioni. Esatto e poi un'altra cosa di cui volevamo parlare eh non solo qual è la direzione in cui vogliamo andare apriamo con un paio di posizioni corte però ricordiamoci che la Ferrari sta rompendo quindi eh eh è un po' forte più forte rispetto al mercato eh due eh ordini eseguiti ha rotto la resistenza e tiene tiene il mercato quindi eh eh ai minimi ma sta questa azione sta andando verso i massimi quindi io credo che potrà continuare in questo movimento. Ora eh considerando tutto questo è chiaro che le dobbiamo dare spazio e quindi non so magari arrivo a due cinquantotto mh beh eh abbiamo la sessanta due sessanta lunga quindi pago solo lo spread la Ferrari eh Trada eh quindi quando rompe i cinquanta sessanta questo è il massimo che potete ottenere e quindi credo che voglio arrivare almeno a questo duecentocinquantasette. Stavo leggendo un'analisi molto interessante questa mattina per quanto riguarda appunto le vendite al dettaglio della Cina dei eh dati che suggeriscono che eh per eh due giorni stiamo raccogliendo dei dati sulla Cina che indicano che sono più deboli delle attese questa volta con debolezza nel settore retail di vendita al dettaglio in maniera particolare. E lo rilego a Burberry a Londra eh nel UK. Burberry ha ha esposto vediamo appunto un ribasso, un gap verso il basso oggi. Eh vediamo non ha fatto molto abbiamo fatto trading avanti indietro però in un range molto ristretto non è che sia molta molto. Ha un livello molto significativo che comunque è una resistenza a questo punto venti eh cioè nell'area di duemila e cinque. eh bene questa era una nota eh per eh che indica che ci sono sempre eh più eh spazi aperti diciamo nelle proprietà immobiliari a Hong Kong e nel resto della Cina eh a livello immobiliare soprattutto per quanto riguarda anche eh dei eh brand e dei marchi di rivendita eh al dettaglio eh per Burberry è questo anche. Bene voglio farvi vedere quindi eh eh quanto è facile fare tutto questo. Aprite di nuovo la piattaforma, cliccate qui e poi io scrivo P U R B B U R B ed ecco che istantaneamente eh mi trovo quello che sto eh cercando non è Luther Burberry però qui al suo CFD ecco che si apre avete il il i valori potete fare una valutazione molto rapida potete andare a vedere il grafico potete trascinare queste componenti dove volete nel vostro spazio di lavoro è assolutamente fantastico e poi se avete più siccome facciamo io e Neil allora non so se si riesce a far vedere comunque per esempio sul mio altro schermo io ho trascinato eccolo grazie grazie quello riuscite a vedere ho grafici diversi qui su questo schermo ho tutti i miei book e quindi quello che vi ho fatto vedere finora è questo e qui ho tutti i miei book insieme alle notizie ai chart diversi grafici diversi quindi diciamo che è una piattaforma che vi dà la possibilità di personalizzare eh il lavoro come volete farlo Fineco Ex è stata fantastica nella creazione di questa piattaforma perché ha reso la vita dei trader molto ma molto più facile e tra l'altro eh Brandon ci ha parlato di Burberry andiamo a vederci il grafico dei cinque minuti di Burberry non è che stia facendo molto eh eh in discesa rispetto a apertura quindi è un po' il ribasso e non si sta spostando molto quindi io preferisco aspettare in questo caso e magari sto a vedere se magari si tratta in modo un pochettino più attivo però eh ora come ora non sta facendo molto allora cosa faccio? Chiudo il grafico e ritorno a Volkswagen e vediamo che cosa è successo è scesa fino a quel sessantacinque e poi è risalita e sta effettivamente rompendo questa soglia e mh senz'altro se andrà ulte questo valore ci sarà una vera e propria rottura questa è a trenta centesimi di uno quarantaventi se rompe ricordatevi che il nostro obiettivo qui era di circa trenta cente questo è un trade one to one nella prima metà e poi se continua a scendere beh allora sì che cominciamo ad avere dei risultati perché il nostro rischio è qui e il nostro profitto è qui quindi per me questo è un trade che mi piace e credo che eh ne possiamo fare qualcosa ora se ci sono domande mettetele nella chat eh le potete chiedere a tutti e tre e tutti e tre siamo qui a vostra disposizione per rispondere alle vostre domande quindi mi piace molto la tua idea nel eh avere aperto anche il pdf perché così io non ce l'ho aperto però ce l'ho anch'io no ma in questo modo possiamo andare a cercare rapidamente eh come aprire un grafico come cambiare il frame temporale come andare a vedere il grafico a tre minuti oppure a cinque minuti oppure quello quotidiano in poche parole sul pdf avete tutte le informazioni necessarie e e Fineco ha fatto un lavoro eccellente con questo pdf che vi fa capire come utilizzare la piattaforma che però è semplicissima sì puoi personalizzarla molto semplice basta un minuto veramente c'è tanto che potete fare quindi eh credo che ci stanno le domande forse Brennan sì 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 grazie mille eh a tutti voi e vediamo se ci sono domande da parte del pubblico sì iniziamo con la parte delle delle domande risposte però prima di iniziare volevo ringraziarvi per avere per la vostra collaborazione per aver iniziato anche a lavorare alle sei del mattino se del mattino vostre tredici nostre quindi grazie ancora per la vostra professionalità eh ok guys thank you thank you for your collaboration and for uh starting your work at uh 6 a.m your local time and the the first question is uh uh we talk about uh raw materials stocks so what do you prefer uh among uh rio tion rio tinto glencore and anglo america beh realisticamente a roberto e comunque tutti voi quello che potete fare guardare semplicemente le chart purtroppo le raw materials e materie prime francamente non è il mio ambito di specialità si può parlare magari di alcuni nomi dei che fanno c'è nel settore auto però ecco forse questo eh è più nella mia specialità preso qua guardiamo glencore eh grafico annuale poi quello giornaliero e questo lo conosco molti di questi titoli pagano un dividendo e rizzoomando qui si vede che è un po' bloccato a metà strada francamente non mi dispiace questo titolo però è come se magari hai 400 base proprio qui eh quindi io le lascio un attimino eh scendere i metalli secondo me hanno avuto un bel percorso verso eh l'alto però qui questo potrebbe arrivare intorno a 400 per gli altri nomi invece di cui hai parlato eh beh l'altro è rio tinto allora eh vediamo di trovarlo qui con cfd eccolo qui apro il eh la chart e il grafico eh guardo subito velocemente a rio tinto la sua posizione eccolo qui eh molto simile all'andamento eh a glencore beh molti di questi nomi chiaramente eh scambiano insieme perché il prezzo per esempio dei metalli ferosi del rame di altri metalli si muovono eh intorno a questa zona eh questi titoli sono molto ben capitalizzati e dovrebbero muoversi contestualmente insieme ma vedete che qui c'è stato veramente una base molto bella per il rio tinto tra quattro mila e cinquecentocinquemila questo è stato veramente una base molto bella dalla quale siamo usciti rompendo eh zoomiamo un pochino eh di più a due anni vedete che questa eh base qui sembra abbastanza solida forte qui io preferisco quindi eh che questo rio tinto possa eh rompere qui se potessimo portare giù eh questa area di eh mila e seicento per esempio eh quindi un deep down a cinque mila e quattro forse perché secondo me questa è un'area di protezione eh è stato un po' difficile in estate anche in autunno fare trading come tutti noi sappiamo sono titoli metallici dei metalli che hanno tenuto invece molto bene e poi sono decollati letteralmente qualsiasi ritracciamento quindi eh nei cinque mila e cinquecento io credo che guardando il grafico rispetto a a Glencore ecco mi sembra che qui non ci sia molta protezione se rompi a ehm quattrocento vai a tre cinquanta e puoi scendere ancora molto molto di più allora io eh invece mi piace il supporto un po' di più in eh rio tinto qui partendo appunto a cinque mila e duecento piuttosto che Glencore ed è questo quello che sceglierei Io vorrei aggiungere una cosa a quello che ci ha appena detto Sean tutte e tre queste aziende hanno già dato gli utili per questo trimestre Anglo American è l'unica che eh ha eh ottenuto risultati che hanno battuto il trimestre quindi ehm sì ci sono alcune cose da considerare eh torno sul mio grafico un secondo perché volevo dire una cosa che secondo me è molto importante allora quello che si può fare qui e io ho eh riottinto qui proprio per questo punto ho fatto un paio di eh eh studi guardando appunto l'orizzonte temporale più lungo mi piace per esempio guardare la media mobile a duecento o a cinquanta periodi e quindi questo mi fa vedere le differenze che ci sono ogni volta che c'è una rottura eh da eh duecento poi c'è stato un consolidamento sempre più in basso allora se tiene bene a duecento sessantacinque per esempio ha un potenziale di rottura di breakout eh fantastico sono d'accordo il periodo i cinquanta periodi non sono un buon indicatore ogni volta che rompe a duecento basta aspettare per scendere del eh dieci per cento qui vedete che ogni volta che pagano un dividendo eh eh si può aggiungere per esempio azioni corporate dividendi potete visualizzare gli ordini sono funzioni molto utili perché magari uno vuole vederli prima o poi per vedere quando eh pagano i dividendi che cosa succede al titolo in quella situazione quindi è un modo per riuscire a a vedere gli studi fatti per analizzare questi aspetti grazie Roberto ok grazie per la vostra risposta facciamo un'altra domanda e ci chiedono come selezionate le azioni da mettere nella vostra watch list ehm eh the question is how do you select the stocks for your watch list ottima domanda eh allora effettivamente non abbiamo parlato eh dettagliatamente di come si mettono le medie mobili eccetera eccetera sfortunatamente io ho guardato altri grafici e mi sono dimenticato di farvi vedere tutto questo quindi colpa mia eh non vi ho fatto vedere le medie mobili io guardo un periodo di 50 di medie mobili ma anche una cosa molto semplice la media mobile in tre minuti quindi cosa faccio 50 è in rosso e proviamo a utilizzare questo verde qui no 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 è troppo scuro giallo proviamo con il giallo e poi uso la modalità exponential esponenziale che significa la differenza tra la chiusura o l'apertura eh in questo grafico specifico per esempio per il grafico giornaliero abbiamo quello di un minuto qui la media mobile dei tre minuti non ci fa vedere molto quando utilizziamo il grafico del minuto ma guardiamo il periodo di 50 eh linea rossa beh se andiamo al di sotto del periodo del 50 eccolo qui che ci ricorda quello che è successo con Volkswagen allora decido di prendere posizioni corte quando sono sotto alla media mobile del periodo 50 ecco eh questo è quello che io faccio quando analizziamo le posizioni e possiamo anche aggiungere facilissimo aggiungere andate qui eh studies e lo dicevo prima nel è incredibile eh i profili dei volumi eh quanto siano facili da trovare ecco qui abbiamo tanti dati per questo CFD però potete aggiungere anche i profili di volume potete mettere il true range ci sono moltissime o moltissime opzioni moltissimi parametri che potete utilizzare nella definizione del vostro grafico quindi eh grazie perché veramente hai reso il nostro lavoro molto molto più difficile e grazie per tutti questi parametri e queste opportunità sulla watch list quindi c'è un'altra cosa che voglio mostrarvi eh per esempio magari io cerco una fonte che abbia il volume massimo per la giornata su quel mercato particolare ma il termine volume può essere un po' fuorviante perché ci sono tantissime azioni quindi un sacco di volume ma all'interno del stesso range magari molte eh società metallurgiche allora se so che sul mercato tedesco eh c'è un ribasso come eh è accaduto e quindi abbiamo eh short vado a vedere tutti i CFD che sono a disposizione da Fineco e poi li seleziono in base alla percentuale di cambiamento ecco qua ancora una volta Hello Fresh l'abbiamo trovata in questo modo e così abbiamo trovato tanti altri nomi Merck questa è Merck eh come numero nome numero uno io volevo andare short quindi ho ripreso questo nome semplicemente dopo aver guardato questa lista e poi posso anche andare alla ricerca di eh news eh per esempio perché è la stagione dei la comunicazione dei profitti e allora magari volete andare a vedere che ne so il mercato francese oggi allora andiamo sul mercato francese e in tutta onestà e questa è già una watch list per eh perché potete vedere eh il massimo il minimo della giornata potete aggiungere delle colonne e poi andate a vedere questo e questo è dentro e praticamente è una modalità in più che è all'interno del sistema quindi potete anche decidere di zoomare fuori e andare a vedere per esempio che cosa al di sopra o al di sotto per la giornata con questi mini grafici e secondo me è estremamente facile realizzare delle liste in questo modo e come ci diceva Neil potete potete aggiungere una watch list nuova che potete iniziare a fare vedete qui non ho ancora aggiunto nulla ma se volete aggiungere per esempio Burberry visto che ne abbiamo parlato allora andiamo a trovare Burberry ecco qui come CFD Burberry CFD lo aggiungo adesso è sulla mia watch list e poiché è un CFD eh non c'è il chart dei volumi però se lo mettete come azione potete vedere anche i volumi sì sì al 100% anche io faccio così cioè la percentuale si muove eccetera ma dovete tenere presente anche il catalizzatore news beh Brandon sicuramente ama molto eh le corse e io ascolto per esempio quello che succede non so durante il weekend magari la stone martin eccetera quindi si tratta più che altro di guardare anche il catalizzatore cioè qual è il catalizzatore per loro per HelloFresh parte da lì e poi puoi eh chiaramente eh scegliere in base al resto eh bisogna per forza fare una watch list eh assolutamente evidente non è possibile seguire ogni nome singolarmente sul mercato quindi fatela guardate qualche nome eh guardate quelli che si muovono e poi aggiungeteli eh alla lista solo solo se la cosa è giustificata quindi se c'è un catalizzatore di notizie di news o qualche cosa che è un un po' diciamo anomalo fantastico ragazze bene eh è stato veramente un piacere conoscere e utilizzare la piattaforma Feneco X così come abbiamo fatto nelle ultime due settimane e con questo ridiamo la parola a Roberto perfetto sì siamo giunti alla fine di questo appuntamento quindi ringrazio ancora Soraya e Cristina per la loro collaborazione ringrazio Sean, Neil e Brandon per averci dato degli spunti interessanti per migliorare nelle nostre strategie di trading e ringrazio voi per averci seguito vi ricordo che continueremo a fare altri webinar per imparare ad utilizzare questa nuova piattaforma e soprattutto come migliorare nelle nostre attività di trading quindi vi ringrazio e vi ehm eh ci rivediamo alla prossima puntata thank you guys for your collaboration and eh we're looking forward to see you in the next session. Have a nice day. Bye.